Alle cittadini e ai cittadini raccomandiamo un voto consapevole e responsabile. Non si tratta di una legge ordinaria, ma della Costituzione, la nostra carta fondamentale. Modifiche sbagliate e destinate a non funzionare, così come lo stravolgimento del sistema ideato dai Costituenti avrebbero effetti imprevedibili e disastrosi per l'equilibrio dei poteri, per la rappresentanza, per l'esercizio della sovranità popolare, in sostanza per la stessa democrazia che invece va rafforzata, potenziata e difesa con la piena attuazione della Costituzione Repubblicana. Consapevolmente e responsabilmente votate no. Carlo Smuraglia, Presidente Nazionale Ampi, Susanna Camusso, Segretaria Generale CGL, Francesca Chiavacci, Presidente Nazionale Arci.